Quello è una cosa che noi difensori dobbiamo fare a prescindere, fa piacere aver salvato quasi un gol fatto, però sicuramente è il nostro dovere andare subito a dare una mano al portiere. Siamo stati fortunati in quell'occasione, sicuramente resta... Ci conosciamo, siamo compaesani. Perché salvare il gol? Sì, sicuramente, però affrontavamo comunque una cremonese in salute, sapevamo di non dover concedere molto campo perché erano rapidi in avanti e quando affronti una squadra così, che sta tutta dietro la linea della palla, che ti aspetta che tu sbagli per riportarti in contropiede, lì è dura. Sicuramente abbiamo creato poco, però abbiamo mostrato la classifica con questo punticino. Gennaro, poche sufficienze questa sera in pagella per il Pescara, che aveva abituato i suoi tifosi a ben altre prove, sufficienza piena per i difensori, perché questa sera siete riusciti a sbrogliare diverse situazioni complicate. Sicuramente c'è anche la mano di Vincenzo Fiorillo, che ha fatto due o tre parate importanti, siamo stati un po' disattenti su alcuni calci piazzati. Ci hai anche provato di testa nel finale di gara? Se diciamo che mi sono mangiato un gol grandioso, di solito quelli là li faccio, però purtroppo è andata male. Sicuramente, come dicevo prima, abbiamo mostrato la classifica, questo punto comunque ci aiuta, ci dà morale, anche perché il giro di ritorno è tutto un altro campionato. Le squadre si rinforzano, possiamo vedere già i risultati delle altre squadre, quindi sicuramente quando non puoi vincere non devi perdere. Quanto è bello il calcio, Scognamiglio, nel senso che fino a un mese e mezzo fa non avevi visto sostanzialmente il campo, eri fuori dalle gerarchie di Pillon, ieri in conferenza stampa Pillon ha detto Scognamiglio gioca. Sei un po' preoccupato che Campagnaro sta benone? Sicuramente Ugo è un giocatore importante, un giocatore che ha fatto una carriera ad alti livelli, quindi sicuramente per noi è un aiuto. Avere Ugo in squadra penso che qualsiasi squadra vorrebbe avere un giocatore come lui e noi ne facciamo tesoro, possiamo solo imparare da lui. Sicuramente in questo momento per me spero che continui, io posso ancora dare tanto e devo dare tanto a questa maglia e devo dimostrare sul campo che Scognamiglio vale il giocatore che è. Gennaro, si parla tanto di mercato in questione e tu non sei direttamente interessato perché sei un giocatore in questo momento inamovibile per quanto riguarda il Pescara, però tutte queste voci a qualche tuo compagno probabilmente creano qualche problema o comunque in generale il mercato crea qualche problema perché la prova di questa sera è stata una prova ben al di sotto delle aspettative e anche il mercato a creare qualche problema. Ma io non credo perché comunque chi gioca non pensa al mercato, poi magari a volte gli allenatori quando ci sono dei giocatori in uscita magari non li fanno giocare, quindi non penso che chi gioca ha la testa al mercato, anche perché io non riuscirei a pensare al mercato mentre giochi. Quando giochi sei concentrato sulla partita, poi ci sono delle partite che fai un po' sottotono, delle partite che non ti vengono delle cose e poi fai delle partite grandiosi. Questo fa parte del calcio, però ripeto non dobbiamo fare nessun allarmismo, secondo me ci sta una prova così dopo la sosta e ci portiamo a casa un punto. Io ringrazio anche Genaro Scogna Miglio, grazie a Scogna Miglio.